Musica Con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio non avremo più governi tecnici, ribaltoni di palazzo, vi sarà stabilità politica e quindi l'Italia tornerà ad essere un paese sul quale investire. La destra ha sempre sognato di smantellare la Repubblica parlamentare verso un modello di maggiore concentrazione dei poteri in mano al capo o alla capa, poco cambio in questo senso. Bisogna fermare il mercimonio tra Salvini e Meloni, autonomia differenziata in cambio di premierato, così si mina l'unità d'Italia e si riducono i poteri del Presidente della Repubblica. Io penso che le due cose abbiano due genesi diverse, se non ci fosse l'autonomia io comunque sarei il primo sostenitore del premierato, questo deve essere chiaro e anche la lega. Dall'altro ovviamente il premierato avrà un percorso costituzionale per la modifica della Costituzione, l'autonomia quella modifica l'ha già avuta con il titolo quinto nel 2001. Siamo molto contrari, faremo una battaglia contro, abbiamo fatto una proposta alternativa di buon senso, non c'è stata data risposta e basta. Che la formula del premierato, così come l'ho proposta, sia una formula possibile, qua si dice lo facciamo strano, ma se io devo, prendendolo da quello che era il film di Verdun, la famo o strano, non lo facciamo strano, ma non vorrei, vista la risposta di 2800 emendamenti, che non lo famo per niente. Dopo aver blindato il vice premier Salvini e la ministra del turismo Sant'Anché, la maggioranza di centrodestra accelera sulle riforme. Il 23 aprile alla Commissione Affari Costituzionali al Senato terminerà la discussione sul DDL Casellati, l'ultimo passaggio prima che la madre di tutte le riforme approdi a Palazzo Madama. Buonasera e ben trovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG Plus, sempre con me il nostro opinionista Savino Balzano, buonasera. Buonasera Aurora, un caro saluto a tutti voi. Vado a presentare i nostri ospiti, l'onorevole Fabio Roscani di Fratelli d'Italia, nonché presidente di Gioventù Nazionale, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Il professor Fulco Lanchester, merito di diritto costituzionale comparato all'Università della Sapienza di Roma, buonasera. Buonasera. Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a tutti voi per aver accettato il nostro invito. Onorevole, io parto da lei, ha visto nel nostro blog di copertina l'Ischlein, quell'estratto da una conferenza stampa dove appunto si diceva no al premierato. Noi abbiamo messo solo una parte, ma in quella conferenza stampa l'Ischlein ha definita la riforma che smantella la Repubblica parlamentare, svilisce il ruolo del Parlamento e del Capo dello Stato. L'unico interesse della Meloni è concentrare i poteri su un capo o una capa, insomma, come replica tutto ciò? Noi stiamo facendo quello che abbiamo semplicemente detto e promesso in campagna elettorale. Avevamo chiesto un voto ai cittadini italiani per andare al governo della nazione, fra i tanti punti del programma di Fratelli d'Italia e del centrodestra c'era quella che abbiamo definito la madre di tutte le riforme e quindi un nuovo assetto diciamo costituzionale che permetta l'elezione diretta, in questo caso, del Presidente del Consiglio, che significa diciamo tutto il contrario di quello che sostiene l'Ischlein, significa dare centralità al popolo italiano che sceglierà direttamente il capo del governo, significa avere finalmente un sistema istituzionale che allontana, ovviamente, esclude totalmente l'ipotesi di governi tecnici, di maggioranze strane come si sono viste insomma negli ultimi anni, che mette fino al trasformismo che dà quindi forza al popolo italiano, dà forza ad un governo che scelto direttamente, un Presidente del Consiglio, un Premier scelto direttamente dal popolo che può governare cinque anni e andare anche in Europa e nel mondo diciamo con una credibilità maggiore. Questi sono gli ingredienti che ruotano intorno e che sono i punti centrali della riforma del Premierato e avviene dopo comunque un confronto con tutte le forze politiche, con tutti gli attori in campo e oggi ovviamente nel senso che stiamo mettendo a terra questa riforma che passerà appunto in Parlamento. Legittime le posizioni di Elish Line delle opposizioni, non tutte le opposizioni diciamo sono così contrarie, a questa riforma però noi crediamo che si stia andando nel verso giusto. Francesco Borgonovo, ti sottopongo adesso invece la critica forse più pragmatica perché quelle avanzate da Elish Line possiamo anche definirle critiche politiche. Quella che usano un po' tutti è questa, il Premierato non funziona anche perché non esiste da nessuna parte quindi insomma le due cose si escludono a vicenda. Di contro si tira in ballo ad esempio il modello tedesco come un modello virtuoso che potrebbe essere applicato al nostro paese. Tu che ne pensi? Sentite un po' di tutti i colori, il fatto che una cosa non ci sia da nessuna parte non significa che non funzioni, ci sono un sacco di cose che ci sono dappertutto e funzionano malissimo uguali, quindi non vedo il problema. Tra l'altro sul Premierato, sull'idea di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio tanti intellettuali ma anche esponenti politici del centro-sinistra negli anni sono mossi. Anche Giuliano Amato aveva posizioni non troppo dissimili qualche tempo fa, poi improvvisamente lo propone il centro-destra e allora diventa una schifezza. Adesso tra l'altro torna fuori l'idea del cancellierato da sinistra salta fuori quindi l'idea che serva un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio mi sembra un'idea condivisa, benché credo che non sia molto appassionante per gli italiani discutere di queste questioni tecniche. Non ci vedo alcun rischio sinceramente per la democrazia, nessun rischio dittatoriale anche perché se proprio si voleva parlare di rischio autoritario allora si doveva pensare ai governi tecnici che in questo modo dovrebbero essere evitati. Certo c'è sempre l'ipotesi che poi questa riforma si ritorca contro chi la fa nel senso che se vince qualcuno dall'altra parte poi ha i poteri rafforzati pure lui. Io credo, concludo, che qui il problema vero della nostra nazione sia il ruolo stravagante che ha assunto la Presidente della Repubblica. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che fa un certo tipo di politica e poi abbiamo dei Presidenti della Repubblica che in un modo o nell'altro fanno un altro gioco, remano contro l'interventismo di Mattarella nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ma anche negli ultimi anni, a dir la verità, lo dimostra. L'intervento sull'area Salis, ad esempio, e stiamo parlando di un Presidente che interviene forse un pochino meno rispetto a Giorgio Napolitano che era stato un grande maestro di questo, ma da così in avanti abbiamo veramente un'anomalia che forse questa riforma potrebbe cancellare. Peraltro pochi istanti fa Giorgia Meloni, cito un'agenzia in cui dice prendiamo in considerazione anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Quindi voglio dire, mi sembra che la direzione sia chiara e abbia anche un senso. Savino, tra poco vengo da te perché so che il tema del Presidente della Repubblica e anche dell'interventismo di Mattarella ti appassiona, ma prima voglio il parere tecnico del Professor Lanchester perché quello su cui, un punto che alla fine penso sia condiviso da tutti, da chi ama questa riforma e di chi invece la contesta, è che al nostro Paese serve una certa stabilità. Perché, come ha detto anche Giorgia Meloni in conferenza stampa, quando ha presentato la riforma, in 76 anni abbiamo avuto qualcosa come 68 governi, in media duravano un anno e qualche cosa in più. C'è una formula, diciamo così, perfetta e adattabile un po' a tutti i contesti per garantire la stabilità, professore? No, non c'è. Nel senso che dal punto di vista teorico, per raggiungere determinati obiettivi, si possono proporre degli strumenti tecnici. Il problema è l'ambiente politico e sociale in cui si inseriscono le tecnicalità. Ma per la mia opinione è che questa sia una revisione costituzionale troppo incisiva, tendente ad imbullonare e da inchiavardare il circuito democratico che parte dall'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo nelle forme e nei limiti della Costituzione, ne passa attraverso l'articolo 3 e poi attraverso l'articolo 48-49 si immerge nell'articolo, nell'elezione delle Camere, del Senato e della Camera dei Deputati. L'onorevole Roscani ha detto una cosa giusta, cioè che il centrodestra aveva posto un certo tipo di programma presentandosi nel 2022, soltanto che il programma per quanto riguarda la forma di governo, quello di Fratelli d'Italia, era l'elezione diretta del Capo dello Stato e chi conduce questa trasmissione ha ricordato oggi che l'onorevole Meloni, il Presidente del Consiglio, ha riposto sulla scena questo argomento. Quindi il tema è che siamo davanti alle elezioni europee e poi soprattutto siamo davanti alle elezioni americane. Molto dei rapporti di forza e della situazione politico-istituzionale si chiarerà dopo questi due avvenimenti. L'accelerazione della maggioranza, in particolare del partito di maggioranza relativa, mi sembra di tipo pre-elettorale. Dovremmo vedere ciò che succederà successivamente. Poi nella seconda parte dell'intervento evidenzierò che oltre all'imbullonamento e all'inchiamartamento c'è il problema di quale legge elettorale. No, ecco, è un dettaglio non da poco, tra pochissimo ci arriviamo perché genera dubbi anche all'interno della stessa maggioranza, ma prima Savino Balsano e il ruolo del Presidente della Repubblica che secondo le opposizioni, in particolare Giuseppe Conte, rischia di essere ridotto a un passacarte. Ma allora, a me questa riforma non convince per il semplice motivo che noi in questo Paese abbiamo un'emergenza legata alla totale assenza di centralità del Parlamento. Noi siamo una Repubblica parlamentare, il Parlamento deve essere al centro della produzione normativa e in generale della politica del Paese, così non è da tanto tempo per colpa di tutti i governi che si sono succeduti. Quindi questo è un grosso problema. E la stabilità si potrebbe perseguire anche attraverso il meccanismo della sfiducia costruttiva, cioè tu fai cascare un governo soltanto se ne hai uno sostitutivo e questo già dovrebbe sistemare un po' le cose. Il punto è che Giorgia Meloni prova in qualche modo a nascondere, non capisco perché, il vero enorme merito di questa ipotesi di riforma, perché loro dicono che i poteri del Presidente della Repubblica non li tocchiamo. Questo non è vero, lo dicono per tranquillizzare un po' l'opinione pubblica, ma la verità è che questo è l'unico enorme pregio di questa riforma. Perché a parte i riferimenti che faceva prima Francesco Borgonovo che condivido, noi abbiamo avuto dei casi veramente eclatanti. C'è stata una recente intervista di Juncker, ex Presidente della Commissione Europea, che ha dichiarato palesemente che ha inciuciato con Napolitano per mettere in piedi il governo Monti, che poi ha fatto la macelleria sociale che abbiamo visto. Mattarella ha detto di no al Ministero di Paolo Savona per le sue idee politiche, perché Savona destabilizzava i mercati. Altro che interventismo, altro che garante della Costituzione. Noi qui abbiamo un'emergenza pazzesca di un Presidente della Repubblica che deborda palesemente rispetto a quelli che sono i poteri che la Costituzione gli affida e che da tempo, piuttosto che essere garante della Costituzione e del vincolo esterno, è diventato garante assoluto del vincolo esterno e delle politiche neoliberali dell'Unione Europea. Ecco, l'avevo detto che questo argomento appassiona Savino Balzano. Allora, prima di soffermarci sul punto della legge elettorale, vediamo perché questo non è il primo tentativo di modificare la Costituzione, la Costituzione più bella del mondo. Ce ne sono stati altri nel passato, alcuni hanno avuto successo, altri meno. Lorenzo Capezzoli-Ranchi. Il premierato, la madre di tutte le riforme, la modifica che ci porterà nella Terza Repubblica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa, ribadisce così l'importanza di questa riforma presentata e approvata dal Consiglio dei Ministri. Auspica la capa del Governo anche un'ampia congiuntura in Parlamento per evitare di porre la scelta, leggasi, il via libera alla riforma, nelle mani degli italiani. Faccio la riforma, la consegno agli italiani e sono gli italiani che decidono. Un passaggio che, in passato, è stato pesante per alcuni esecutivi, costretti a cambiare rotta o addirittura a rimettere il proprio mandato. Sebbene il primo referendum costituzionale della storia fu approvato nel 2001, prevedendo maggiore importanza alle autonomie e ai corpi intermedi, l'esempio più lampante di un destino, bocciato dalle urne, è quello che porta il nome di Matteo Renzi, anzi, quello di Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali nell'esecutivo dell'Enrico Staisereno, guidato dall'allora segretario del PD, che aveva deciso di giocarsi il tutto per tutto sull'esito di quel referendum datato 4 dicembre 2016 e che portò come risultato un nuovo premier, Paolo Gentiloni. La riforma, che prevedeva infatti il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, fu sonoramente bocciato dalle consultazioni popolari con il 59,12% dei no. Quattro anni dopo, in piena pandemia, nuovo referendum. Anche qui si dibatte soprattutto sul taglio dei parlamentari. Il governo Conte 1, sostenuto allora dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, propose di ridurne il numero in una riforma che convinse l'elettorato e che passò riducendo così il numero da 315 senatori a 200 e da 630 deputati a 400. È il weekend del 2021 settembre 2020 e quasi il 70% dei votanti approva la sforbiciata. Quello del taglio dei parlamentari, ma anche il superamento del bicameralismo perfetto, ovvero dello stesso peso fra Camera e Senato, era un progetto che era già stato proposto in principio nel 2006 dal governo di Silvio Berlusconi e che conteneva anche la trasformazione del Senato in un organo federale insieme all'accentramento dei poteri decisionali in quel di Montecitorio. Inoltre era prevista anche un ruolo per il Presidente della Repubblica sensibilmente ridotto. Progetto che però fu disgregato da un 60% e oltre di no. Due promossi, due bocciati. L'incognita del referendum costituzionale è quindi un ostacolo che rischia di minare seriamente il coinquenio meloniano a Palazzo Chigi. Onorevole Roscani, dicevamo i dubbi circa il modo in cui l'elezione diretta del Presidente del Consiglio si andrà poi a coniugare con una legge elettorale coerente con questo nuovo assetto istituzionale. C'è già qualche cosa in mente? Ma no, non c'è ovviamente allo stato attuale lo studio sulla legge elettorale. Noi ci siamo ovviamente concentrati sul costruire la riforma che porta all'elezione diretta del Capo del Governo, quindi del Premier, del Presidente del Consiglio, in un'elezione contestuale insieme a Camera e Senato, ovviamente poi sarà la legge elettorale a definire la modalità. L'elemento di assoluta novità è evidente all'interno di questa riforma costituzionale. Come abbiamo visto anche nel servizio, in passato maggioranze diverse da una dall'altra hanno tentato in qualche modo di dare un nuovo assetto istituzionale allo Stato perché è evidente che comunque c'è bisogno in qualche modo di portare nel futuro questa nazione, di entrare nella Terza Repubblica. Il meccanismo dell'elezione diretta del Capo dello Stato, che faccio un piccolo passo indietro perché nel programma di Fratelli d'Italia è vero come diceva il professore che c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, dopodiché con un confronto ampio ci sembrava e ci è sembrato che ci potesse essere una maggiore condivisione nell'affrontare una riforma che prevedesse invece l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. E tra l'altro segnalo che comunque durante tutta la Seconda Repubblica in qualche modo questo meccanismo si è andato quasi a costruire naturalmente la costruzione delle coalizioni con l'indicazione del leader all'interno del simbolo del partito, cioè l'Italia stessa in qualche modo sta andando, è andata diciamo negli anni, nei decenni in quella direzione perché dà sicuramente forza al corpo elettorale, ci fa diventare una democrazia matura, ci mette nelle condizioni davvero di dare stabilità ai governi e come dicevo prima ci mette nelle condizioni di essere credibili agli occhi internazionali perché quando tu cambi ogni anno e due mesi il tuo Presidente del Consiglio, il tuo Capo del Governo, tutti coloro che si raffrontano con te sanno che dopo 14-15 mesi dovranno parlare con qualcun altro e questo significa ovviamente minare la credibilità dello Stato stesso, dell'Italia stessa agli occhi internazionali, significa non permettere alla politica di dare una visione anche di ampio respiro, di lungo raggio, di programmare, esattamente, di programmare e questo è l'elemento su cui si fonda questa riforma. Dopodiché in passato probabilmente, diciamo dico questo, Renzi sbagliò a personalizzare quel referendum perché si trasformò in un referendum sì o no a Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, avete fatto vedere delle immagini di una manifestazione di Fratelli d'Italia in cui c'ero anch'io davanti a Montecitorio quella sera perché sbagliò appunto a personalizzare quella riforma. Noi diciamo un'altra cosa, diciamo che noi abbiamo dato atto del programma elettorale che abbiamo presentato agli italiani, stiamo dando atto a questa promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale ma stiamo consegnando agli italiani una riforma che se non otterrà i due terzi dei voti in Parlamento saranno loro a decidere se promuoverlo o a bocciarla, ma quel voto sarà sul futuro dell'Italia, non sul presente del governo. Sì, questo Giorgia Meloni l'ha chiarito più e più volte. Professore, che legge elettorale bisognerebbe adottare per far sì che questa riforma sia realmente efficace? Inizialmente era previsto un premio di maggioranza al 55%, poi questo 55% è caduto. Nel testo, se non mi sbaglio, che adesso e alle commissioni c'è scritto, ha segnato un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza di seggi nel rispetto del principio di rappresentatività. Sì, il vero problema è che è un sudoku diabolico. Secondo me è difficilmente risolvibile, nel senso che tre elezioni in una, di cui le due, quelle della Camera e del Senato, vengono condizionate dalla elezione del Presidente del Consiglio, chiamatelo meglio Primo Ministro in questo caso. Il problema rimane perché c'è il punto interrogativo se fare un ballottaggio oppure premiare il candidato Presidente del Consiglio che abbia ottenuto il 40% dei voti. Ma risulta poi anche un problema irrisolvibile il problema di come dare il premio al Senato, il premio di maggioranza in Senato, poiché i seggi sono distribuiti a livello regionale e la modifica che è stata proposta dell'articolo 57 della Costituzione non risolve il problema. Il tema è che bisognerebbe eliminare la fiducia di una delle due Camere. con un monocameralismo il problema non sarebbe più presente ed era già ben presente nel 1994 alla Commissione Speroni, ma già prima alla Commissione De Mitagliotti e poi alla Commissione D'Alema anche perché voi avete ricordato i precedenti, ma molte delle posizioni colloquianti del centro-sinistra si basano sulle proposte salvi di elezione diretta del Presidente del Consiglio in Commissione D'Alema. Patto che poi è saltato per il non mantenimento degli accordi da parte di Berlusconi e soprattutto della Lega. Ci sono diversi problemi, ci dice il professor. Io vi dico semplicemente che la cura è troppo decisa, rischia di uccidere il malato e come dico sempre, per andare a Londra attraverso Parigi o Berlino si finisce in Ungheria, a Budapest o a Varsavia in Polonia. Quindi sarebbe meglio mantenere i classici elementi delle forme di governo razionalizzate sia in entrata sia in uscita con un sistema elettorale sufficientemente selettivo, ma non soltanto il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi selettivo. Anche, come dicono le cronache di questi giorni, la legislazione elettorale di contorno e quindi... Ecco, professore, adesso forse stiamo dando troppi dettagli prettamente tecnici che i nostri telespettatori non riescono a cogliere. Poi la interrompo anche perché abbiamo poco tempo e voglio sapere invece da Francesco Borgonovo sempre su questa questione. Si è detto che sarà rimandata dopo che il testo La Riforma ha terminato la doppia lettura, la prima lettura in entrambe le camere. Non rischia di essere troppo tardi la questione della legge elettorale, al di là di quello che ci diceva il professore che presenta criticità, viene bocciata, ci sono casi in cui è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, il Porcellum, l'Italicum, insomma. Ma intanto per commentare quello che diceva il professore per quanto mi riguarda se ci fermassimo a Budapest mi andrebbe benissimo visto che lì c'è qualcuno che il punto ogni tanto sulle sue questioni interne lo tiene. Quindi non ci vedrei nulla di male, un po' meno sulla Polonia ultimamente. Opinione. Opinione, assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda la legge elettorale credo che come i vari referendum sia un tema che non appassiona per niente gli italiani perché comprensibilmente è molto complicato, è molto tecnico, è noioso, non si presta a litigi. Certo, purtroppo la democrazia è fatta anche di procedure, è fatta soprattutto di procedure che sono quelle che cambiano perché la legge elettorale che abbiamo ha prodotto anche dei mostri negli ultimi anni. Il motivo, io non so se sia troppo tardi o troppo presto, il motivo è evidentemente che non si può fare una campagna elettorale sulla legge elettorale e non si può fare credo nemmeno sul premierato perché sono due cose, forse il premierato un po' di più appassiona, si deve fare su altre questioni che tra l'altro sono prettamente europee e quindi vanno molto oltre questi temi. Credo che di cose ingombranti da fare ne hanno a sufficienza il governo a partire dal ponte di Messina mi sembra altrettanto complicato che la riforma costituzionale quindi vedremo, ce lo dirà la storia, io me ne resto qui e al massimo aspetto di finire a Budapest molto serenamente. Grazie a Francesco Borgonovo, Vice Direttore della Verità per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie a Professor Lanchester e a merito di diritto costituzionale comparato alla Sapienza di Roma. Buonasera. E grazie a Fabio Roscani, Deputato di Fratelli d'Italia e Presidente di Gioventù Nazionale. A presto. Grazie a tutti voi, a presto. Savino, come di consueto gli ultimi secondi le battute finali a te. Sono un po' preoccupato perché... Puoi andare in Ungheria anche tu. Eh sì, sono preoccupato perché con le regole della democrazia non si gioca, non si fa campagna elettorale, non è opportuno fare scontro politico perché nella Costituzione in generale nelle regole che riguardano la democrazia si devono rispecchiare tutte le forze politiche e tutti gli italiani. Ci vorrebbe un forte senso di responsabilità altrimenti forse è meglio lasciare le cose come stanno. Savino Balzano lo trovate come sempre domani al TG Plus. Grazie Savino. Grazie a voi. Ciao Aurora, domani. Grazie a Emanuele Forcina che ha curato la regia anche questa sera. Da parte mia grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Grazie a Emanuele Forcina